Nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale, la Venezia Giulia, in particolare Trieste, diventa uno simbolo di divisione, non soltanto tra tedeschi alleati, non soltanto tra fascisti e antifascisti, ma anche all'interno della grande coalizione antinezzista e anche all'interno delle forze resistenziali. Il governo italiano vorrebbe l'occupazione aleata di tutta la Venezia Giulia fino alla Conferenza della Pace, ma non conta nulla e non viene ascoltato. Per il governo jugoslavo Trieste è l'obiettivo dell'offensiva finale dell'armata popolare, e questo per diverse ragioni. In primo luogo per la sua importanza strategica nell'ottica dell'avanzata della rivoluzione verso Occidente. Quel che tempo prima, Edvard Kardel, leader sloveno e principale collaboratore di Tito, ha scritto «Trieste nostra è uguale Trieste sovietica». In secondo luogo, ma l'importanza è la stessa, come simbolo delle tradizionali rivendicazioni nazionali slovene-croate, che sono state fatte proprie dall'intero movimento di liberazione jugoslavo. Ai governi di Londra e di Washington, il controllo di Trieste, viceversa, appare indispensabile per consentire il rifornimento delle truppe aleate in Austria, dove dovranno convivere con i russi. Anche la società locale è profondamente divisa. Infatti, fino dall'autunno del 1944, è cessata ogni forma di collaborazione fra il CLN italiano e il fronte di liberazione sloveno. Dal momento che l'OEF, cioè il fronte di liberazione, ha reso esplicito il suo programma annessionista ed ha chiesto alle unità partigiane italiane di passare sotto il comando dell'esercito popolare jugoslavo. Fatto ancora più importante, la federazione del PC di Trieste è entrata in una crisi profonda. Dapprima è stata decapitata dall'arresto da parte dei tedeschi e dei suoi dirigenti più legati alla logica cilenista, come Luigi Frausin e Vicenzo Gigante. E poi ha deciso di uscire dal CLN e di inserirsi invece negli organismi del Movimento di Liberazione sloveno. A sua volta, il CLN è quasi paralizzato da raffiche di arresti, mentre l'OEF dà vita ad un'organizzazione di massa italo-slovena che viene chiamata Unità Operaia. Nel corso della primavera però i contatti fra CLN e OF si riallacciano, perché entrambi gli organismi sono interessati a verificare la possibilità di una gestione concordata dall'uscita della guerra. E' questo per mostrare un'immagine unitaria dell'antifascismo agli alleati che occuperanno la città, anche perché ancora non si sa quali alleati saranno, se saranno gli angloamericani oppure se saranno gli jugoslavi. L'accordo però si rivela impossibile, perché ciascuna delle due parti propone un assetto politico in cui otterrebbe la maggioranza nei nuovi organi rappresentativi e quindi otterrebbe il controllo della situazione in città. Di conseguenza, sia il CLN che Unità Operaia si organizzano in maniera autonoma per lanciare contro i tedeschi un'insurrezione finale, attraverso la quale intendono legittimarsi come rappresentanti della Trieste antifascista. Da parte loro, angloamericani e jugoslavi non riescono ad accordarsi su di una possibile divisione della Venezia Giulia in due distinte zone di occupazione. E quello che ne consegue allora è stata chiamata la Corsa per Trieste, cioè la competizione per chi arriverà primo nella città. In realtà si tratta di una corsa abbastanza particolare, molto asimmetrica. Infatti, gli jugoslavi progettano tutte le loro operazioni a partire dal marzo 1945, avendo come meta la linea dell'Isonzo. E a questo obiettivo vengono subordinate anche la liberazione di Ljubljana e la liberazione di Zagabria. E l'operazione viene condotta con gravi perdite e correndo anche gravi rischi militari. Invece gli alleati si decidono lo scatto finale su Trieste soltanto dopo la resa delle forze tedesche d'Italia. E solo allora danno il via all'ottava armata britannica, in particolare alla seconda divisione neozelandese. La gara viene vinta dalle Jugoslavi, che entrano Trieste già il primo maggio e vi installano la loro amministrazione militare. Però gli anglo-americani riescono a mettere piedi in città il giorno 2, mentre i combattimenti sono ancora in corso attorno ai capisalli tedeschi, nel castello di San Giusto e nel tribunale. E sono proprio loro, gli anglo-americani, ad accogliere la resa dei tedeschi. A questo punto Churchill commenta. Siamo riusciti ad infilare il piede nella porta. Intanto, a Trieste, gli antifascisti non sono rimasti ad aspettare. Anche se per la verità molti premono perché se ne stiano fermi. Da parte sua, il diovescovo consiglia i cattolici di aspettare gli alleati, mentre il comando jugoslavo consiglia a unità operaia di aspettare l'armata popolare. Da parte loro, il prefetto e il podestà collaborazionisti, Cocciani e Panini, che però hanno anche collaborato con il CLN e hanno avuto contatti con l'OF, propongono al CLN un fronte unico di tutte le forze italiane contro gli jugoslavi e contro i loro alleati comunisti. Ma nessuno da loro retta. Al contrario, gli antifascisti vogliono mostrare ai propri alleati ed anche a quelli meno amici che Trieste si è liberata da sola. E pertanto l'alba del 30 aprile scattano quasi contemporaneamente due insurrezioni, parallele e concorrenziali. E questa è una situazione unica nel panorama resistenziale europeo. I combattenti del Corpo Volontario della Libertà, cioè il CVL, che dipende dal CLN, sono attivi principalmente nel centro città, mentre quelli di unità operaia si battono soprattutto nella periferia e nelle aree portuali. Anche in assenza di un coordinamento al vertice, l'azione comune degli insorti riesce ad evitare la distruzione del porto e costringe i tedeschi a chiudersi in pochi capisaldi, come Castello di San Giusto e il Tribunale. Nella mattinata del 1 maggio entrano in città le prime truppe iugoslave. Le formazioni di unità operaia si uniscono subito ad esse, mentre invece quelle del CLN si ritirano dal campo, perché gli stessi iugoslavi cominciano a disarmarle e a minacciarle. E quindi lo stesso CLN è costretto a ritornare in clandestinità. Comincia così la terribile transizione del dopoguerra. A livello diplomatico scoppia la crisi di Trieste, la prima del dopoguerra, che si conclude il 9 di giugno con la divisione della Venezia Giulia in due zone di occupazione. È il ritiro delle truppe iugoslave da Trieste, da Gorizia e da Polen. Sul campo, le autorità iugoslave avviano una dura repressione di quelli che vengono chiamati i nemici del popolo. La maggior parte della popolazione italiana non è terrorizzata e questa esperienza si fisserà nella memoria collettiva come le foibe giuliane. Di conseguenza, la percezione della liberazione, o meglio delle liberazioni, è molto diversa. Gli sloveni e gli italiani di orientamento comunista vedono nel primo maggio la data della loro liberazione, non soltanto dall'occupazione nazista, ma anche dal fascismo, dallo Stato italiano e dal capitalismo. E quindi per loro il ritiro delle truppe iugoslave è una coccente delusione. Viceversa, i filoitaliani percepiscono gli eventi del primo maggio e delle settimane successive come una catastrofe nazionale. Celebrano invece come momento della loro liberazione il 9 di giugno, quando ritornano a respirare. Di conseguenza, anche le memorie resteranno a lungo divise.